Un enorme corno rosso alto più di 60 metri sul lungomare di Napoli, lei cosa ne pensa? È positivo, comunque è un punto di alzazione. Purtroppo l'Italia e Napoli è pieni di corne, i cornuti ci sono in quanti nativi, serve solo per questi, non serve a niente quegli oggetti che vogliono mettere, sono cose più importanti. Ma mi sembra proprio una caduta di stile. Potrebbe essere una bella iniziativa per attrarre la maggior parte dei turisti che vengono da fuori e vedono il tipico simbolo napoletano, che è quello rosso, che poi sappiamo nasce in realtà nell'antica Roma. Penso che è la nostra tradizione, le critiche sono cose banali, secondo me sono critiche banali perché noi siamo proprio, il popolo napoletano è scaramantico, è una cosa nostra scaramantica. Non mi piace, lo trovo una cosa di cattivo gusto. Una stronzata, quello ne penso, se possono fare altre cose con quegli soldi, mi figuro, come se posso cornicire. Se questo può attirare ancora di più l'attenzione della popolazione, senza sfociare in commenti poco carini, può essere anche una cosa positiva. Ci sono tante cose che si fanno senza gusto, una cosa che non ha senso. Cerchiamo di abbellire la città, come l'avevano messa anche a Caserta, mi pare, davanti alla reggio di Caserta. È una cosa orrenda, brutta.